Sicura è la guida, sicura è in questo caso la notte, sicura è anche la vita di chi guida ma anche di chi non guida. Questo è un progetto importante, quello che avete coordinato e state realizzando con l'Aslan. Sì, è un progetto che ci vede come capofila partecipi, un progetto finanziato dal Dipartimento Politiche e Antidroga, quindi un finanziatore importante, è un progetto che nasce sul seguire di 15 anni di esperienza ormai quasi sul progetto Sicura la notte e vede come partner l'Aslan ovviamente, i consorsi, i tre consorsi e la Croce Verde di Gravellona. Esattamente che cosa farete? È un progetto che si struttura su tre ambiti, su tre macro aree, lavoreremo con una postazione mobile sul territorio, con otto uscite in 18 mesi, faremo informazione, prevenzione, distribuiremo gadget, faremo somministrare alcol test alle persone, agli avventori e lì potranno anche utilizzare dei simulatori per mettere e testare i loro riflessi alla guida. Quando e dove? Lavoreremo in tre modalità diverse, quindi come dicevo il territorio ma anche nel web e nelle scuole. Direttore, qual è il ruolo che ha l'Aslan in questa iniziativa? Ma è un ruolo di partner in un progetto molto importante di prevenzione, rivolto ai ragazzi, ai giovani, di prevenzione degli incidenti stradali che sono una piaga del nostro paese. Adesso ci avviciniamo a un periodo estivo e del periodo in cui questi incidenti succedono purtroppo più spesso e per cui c'è un lavoro di prevenzione fondato sul cercare di dare consapevolezza ai ragazzi su questo rischio che è un rischio molto importante e grave.